Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi su Elden Ring come ottenere così il talismano questo talismano qua quello che aumenta notevolmente la potenza degli ingandesimi il talismano di tela del greggio ovviamente si può ottenere facendo le missioni di Gowry e la quest completa di Millicent quindi in questo caso trovi il video della quest in descrizione oppure puoi guardare questo qua lungo di 25 minuti quindi in questo caso siamo alla Sellia quindi città della stregoneria scalinata di Sellia quindi raggiunci questo posto qua una volta fatto percorriamo così i gradini poi giriamo a destra fino a trovare così la capanna di Gowry ed eccolo qua ovviamente io ho già fatto tutte le missioni quindi ho fatto già tutto tutta la quest e lo troverai qua in questo caso dopo che hai finito tutta la quest ritorna da lui basta che parli con lui e dopo un po' lui scompare e ti lascia il talismano quindi come ho detto una volta finito tutte le missioni e la quest troverai il talismano qua quindi ti auguro una buona visione di questa guida completa che ho realizzato sulla quest di Millicent e Gowry e quindi grazie a tutti per questa missione e non ti resta che guardare tutta la guida a tutti per questa missione e non ti resta che guardare tutta la guida 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 Grazie a tutti. 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 That was... Grazie a tutti. Well... Rot... Grazie a tutti. 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 e... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. e... e... a tutti. 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 Grazie a tutti